Il 5 agosto la chiesa di Our Lady Plina of the World a Richmond Hill vi invita a festeggiamenti in onore del voto santo di Vanoppello, prodare alle ore 14.45 Santa Messa alle 15.30, per informazioni 905-884-7006. Il 5 agosto la comunità di Marina di Gioiosa Ionica invita tutti alla Santa Messa alle ore 11, segue in processione e festeggiamenti in onore alla Madonna del Carmine presso Marylake a King Road. Il 10 agosto l'Amazeno Cultural Association festeggia San Lorenzo Martire, Santa Messa alle ore 19.45, seguita da un rinfresco presso la chiesa di San Filippo Neri a Toronto. Inoltre il 12 agosto potete partecipare al picnic presso il Lazio Place situato a Bonn. Per informazioni 416-999-7725. Il 12 agosto la società San Marco organizza il 55esimo anniversario in onore a San Rocco presso il giardino del Columbus Center su Lorenz. Santa Messa alle ore 9 in italiano nella chiesa di San John Bosco e alle ore 15 preghiere, processione e festeggiamenti. Per informazioni 416-745-1696. Il 12 agosto la comunità di San Dippolito celebra la Messa in onore del Santo alle ore 12 presso la chiesa di San Bernardo su Lorenz e in Geni. Per informazioni 416-241-6738. Il 12 agosto il comitato organizzativo invita tutti i monteleonesi e simpatizzanti a partecipare al 52esimo picnic in onore a San Rocco presso il Simon Gregorich Cultural Club a Newmarket. Per informazioni 416-285-9775. Il 18 agosto San Bernardo first day presso la chiesa di San Bernardo su Lorenz alle ore 18. Barbecue, tanti premi in paio, giochi per i più piccini, firetruck tours e tanta musica. Ingresso gratuito. Il 19 agosto la Canneto Society of Toronto invita tutti al cinquantesimo pellegrinaggio annuale a Marylake a King City. Santa Messa alle ore 10, seguita da processione. Per informazioni 416-573-01-48. Il 19 agosto l'Associazione dei Niguri in Canada terrà il picnic annuale presso il Boy Park di Wolbeggio alle ore 12.30. Per informazioni 416-654-73-46. Il 19 agosto festa di San Rocco nella chiesa di San Rocco su Islington. Santa Messa alle ore 16 e processione alle ore 17, seguita da festeggiamenti. Per informazioni 416-749-03-28. Il 24 agosto l'Associazione Maria Santissima delle Grazie di Torre di Ruggero invita tutti i devoti alla novena della Madonna alle ore 20. Presso la chiesa di San Filippo Neri. E il 2 settembre a processione e festeggiamenti nella sala parrocchiale. Per informazioni 905-851-9267. Il 26 agosto di Fashionest Community of Toronto vi invitano alla 52esima festa annuale in onore di San Gabriele della Dolorata. presso il Veneto Center a Woodbridge. Il tutto inizia alle ore 13. Per informazioni 416-250-7743. Il 26 agosto la confraternina di Maria Santissima delle Grazie di Civita di Boiano vi invita alla Santa Messa in onore della Madonna. Presso il San Cuore di Marylega King City. Per informazioni 416-244-9181. Il 23 settembre ricorrenza dei Santi Medici San Pio, San Michele e San Francesco. Presso la chiesa di San Francesco d'Assisi su Croise Street. Messa alle ore 14.30. Segue processione dei Santi accompagnati dalla Banda Italia Meridione. Per informazioni 416-5168.